In questa rubrica parliamo di Tino Stefanoni, artista recentemente scomparso, che nel corso della sua carriera ha variegato di molto la sua opera, passando da un'arte concettuale, raccontando le cose, gli oggetti quotidiani, fino ad arrivare ad una sorta di metafisica. Come sempre, come nelle altre puntate, diamo uno sguardo ai numeri per fare un confronto su quello che è il suo mercato nelle aste internazionali. Iniziamo dal record, che ormai resiste dal 2012, un'opera della serie cosiddetta metafisica, dei paesaggi metafisici. Come vedete, è un paesaggio quasi alla De Chirico, ovviamente questo è un paesaggio onirico, mentre De Chirico faceva paesaggi ancora più realistici. Questo record che resiste dal 2012, vedete, 20.800 euro, un'opera di 80 cm per 180, quindi un'opera molto imponente, la particolarità di questa sorta di gradatoria, che riguarda Tino Stefanonia, in particolare i paesaggi metafisici, è data dal leggere in maniera diversa la gradatoria, anziché sugli importi sul coefficiente, dove vediamo che il lotto che occupa la prima posizione, che quindi ha il coefficiente maggiore, ricordando che il coefficiente è dato, calcolando a ritroso la base più altezza, quindi l'importo diviso la base più l'altezza, quindi questo numerino che viene fuori, è indicativo, ci consente di fare raffronti oggettivi sulle opere vendute, ovviamente a parità di tipologia di opere. In questo caso il lotto che in proporzione è costato di più, quindi con un coefficiente di 13,14, è un'opera venduta recentemente, nel 2019, ancora evidentemente un paesaggio metafisico, questa volta una sorta di natura morta, che di dimensioni è molto più piccola rispetto alla precedente, è un 32x46, se diamo uno sguardo nuovamente all'opera precedente, quella che occupa quella da 20.800 euro, vediamo che questo è molto più grande e vediamo che il coefficiente è circa la metà rispetto all'opera più piccolina che abbiamo visto poco fa. Quindi a livello di importo, questa è sicuramente l'opera che ha avuto il maggior consenso da parte di collezionisti, che ha richiesto il maggior investimento, a livello di coefficiente invece l'opera è quest'altra, 32x46, venduta nel 2019. Per quanto riguarda l'andamento grafico dei numeri, perché è bello leggere i numeri, ma graficamente si vedono molto meglio, questo è dal 2004, vediamo che la curva, la linea di tendenza è fondamentalmente in salita, addirittura nel 2019 ha raggiunto il coefficiente massimo, evidentemente questo coefficiente è calcolato sulla media di tutti i coefficienti dell'anno, delle opere vendute, vediamo che sono state vendute 190 opere in totale di questa serie dei paesaggi metafisici dal 2004 a oggi per un incasso complessivo che è di poco inferiore al milione di Euro, quindi è evidentemente un artista che richiama i collezionisti, ma d'altro canto lo vediamo dalla curva che è in crescita, nel 2019 il coefficiente è il massimo, facciamo un confronto anche con la quantità di opere che si trovano sul mercato, in questo grafico notiamo le due curve, quella in alto è ancora quella riferita ai coefficienti, quella in basso di colore arancione e quella riferita al numero di opere aggiudicate, vediamo che nella fase in cui c'è stata una discesa, quindi tra il 2015 e il 2017, ecco che la spiegazione della discesa è data dalla maggior inflazione, cioè dal maggior flusso di opere messe sul mercato, vediamo che siamo passati dal 2014 che erano state vendute 14 opere, nel 2015 il doppio, questo evidentemente determina anche, essendoci una maggiore offerta, determina anche un incasso in proporzione minore, per cui giustifica questa curva in discesa, infatti quando poi nel 2019 sono state emesse sul mercato un minor numero di opere, siamo passati da 21 a 15, ecco che il coefficiente è cominciato a salire perché c'è stata, essendo le opere più rare rispetto al periodo precedente, ecco che i collezionisti sicuramente hanno dovuto offrire di più per portare a casa le opere di Tino Stefanoni. Per cui concludiamo dicendo che in questo momento è sicuramente in crescita, quindi ove si dovessero trovare sul mercato opere, in particolare i paesaggi metafrici di Tino Stefanoni, i collezionisti fanno bene ad aggiudicarle. Grazie a tutti, grazie a tutti.